Ciao, sono Ada, consulente digitale di Digital CDL. In questo video, ti parlerò dell'indennità di disoccupazione agricola. L'indennità spetta agli operai agricoli a tempo determinato OTID, agli operai agricoli a tempo indeterminato OTI che hanno lavorato per una parte dell'anno, ai compartecipanti familiari, ai piccoli coloni e ai coltivatori diretti purché abbiano integrato fino a 51 giornate di iscrizione negli elenchi mediante versamenti volontari. È richiesta a. L'iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli OTID, oppure avere svolto attività di OTI nell'anno di competenza. b. Due anni di anzianità assicurativa. c. Almeno 102 contributi giornalieri versati per attività dipendente agricola, anche non agricola purché sia prevalente l'attività agricola, nel biennio solare precedente la domanda. L'indennità è pari al 40% della retribuzione di riferimento per gli OTI e dal 30% della retribuzione effettivamente percepita per gli OTID. dall'importo si detrarre il 9% a titolo di contributo di solidarietà per ogni giorno di indennizzo e per un numero massimo di 150 giorni. Tale trattenuta non viene applicata agli OTI. L'indennità viene erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno di competenza della prestazione entro il limite delle 365 giornate, 366 in relazione agli anni bisestili. La domanda per la prestazione di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si verifica la disoccupazione. Per il 2024, il termine di presentazione della domanda è posticipato al 2 aprile 2024. Il termine è appena di decadenza, ossia non saranno ritenute valide le domande di indennità di disoccupazione agricola presentate in data successiva. Per ottenere l'indennità, il lavoratore agricolo in possesso dei requisiti deve presentare la domanda online entro il 2 aprile 2024 mediante il sito www.inx.it tramite SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, almeno di livello 2, CE, Carta di Identità Elettronica 3.0, o CNS, Carta Nazionale dei Servizi, oppure rivolgendosi agli enti di patronato o attraverso il Contact Center. Se ti è piaciuto il video e lo hai trovato interessante, clicca Mi Piace, iscriviti al canale per sostenerlo e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle uscite dei prossimi video. Grazie a tutti.